ti senti la ossa sai che c'è il mio cappello tirlo via guarda dai che è bello guarda allora che piace il mio cappello ti senti una di queste cose mandamela fuori però dei film ti puoi vedere anche in internet non li metto tutti in internet metti tutti su youtube no e poi bisogna che ti fessi una cattina a fare su facebook come al varo ah Mario no lei è vera che roba che ti ha sempre sempre in pizza no 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 niente di vero no e una volta che lei è partita eh verso ferma ferma scusa eh alai us eight dir qual è senti 他 что lo senti oss che non ti fai niente, non ti fai niente e la gira la testa è a 180 gradi quella la? 200... 60 gradi madonna pureta ma dimmi la cosa, ti piace più carezzare la femmina o? no questa qua è già un'altra storia è sempre meglio una bella femmina a Dio Cristo la femmina della Daniele? no è sempre meglio una bella femmina la vedi a ieri sera? eh 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 qui cacca figa la vita la vita la vuoi